Benvenuti sul canale 216 del digitale terrestre con la tua tv io sono Beppe Stallone e questo è il tuo Tg Puglia. Ieri il sindaco di Foggia Landella ha azzerato la giunta ma già circolano i nomi dei nuovi assessori molti sono tecnici i partiti di maggioranza dovrebbero far quadrato compreso Fratelli d'Italia sentiamo Germana Zappatore. La giunta dei migliori prende forma dopo il consiglio dell'azzeramento Landella ha incontrato i suoi per un confronto sui nuovi nomi che il sindaco ha già individuato fuori dalle stanze della politica il nuovo corso infatti sembrerebbe prevedere un'aggiunta tecnica. Arriva dall'Ateneo Foggiano Barbara Caffarelli docente di statistica e figlia dell'ex deputato democristiano Franco Caffarelli mentre direttamente dal terzo settore Lelio Pagliara è in lizza per l'assessorato alle politiche sociali. Landella inoltre punta molto anche sull'ex comandante provinciale delle fiamme gialle Francesco Gazzani per la delega a sicurezza e polizia stradale, sull'ingegnere Antonio Scarano per l'urbanistica e sull'ingegnere Antonio Nembrotte al quale vorrebbe affidare l'assessorato ai lavori pubblici e all'ambiente che fino ad oggi era dello stesso primo cittadino. All'interno della giunta dei migliori ci sono però anche due conferme della vecchia guardia che danno una spinta all'equaterosa. Si tratta di Claudia Lioia e Anna Paola Giuliani alle quali dovrebbero rimanere rispettivamente pubblica istruzione e cultura. Manca ancora qualche nome ma il nuovo corso pare non dispiacere alla maggioranza anche se Fratelli d'Italia aspetta l'approvazione da Roma per esprimersi ufficialmente. Il via libera è comunque atteso nel weekend. Il Ministero degli Interni finanzia un progetto per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e del racket delle estorsioni. Progetto presentato da Confindustria e Fondazione Bon Samaritano di Foggia. Abbiamo sentito il Presidente della Fondazione Pippo Cavaliere. Presidente come verranno utilizzati questi 170 mila euro ricevuti dalla Fondazione da parte del Ministero degli Interni? Verranno utilizzati per questa specifica finalità. In questi 26 anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo verificato, abbiamo maturato la consapevolezza che l'unico modo per affrontare questo e sradicare questo fenomeno usurario che devo dire è forse uno dei reati più brutti, più odiosi che possa esistere perché un reato che approfitta dello stato di bisogno e di disperazione della gente è la denuncia. Bisogna denunciare sia il reato di usura che il reato di estorsione. Io in questo contesto, in questa circostanza voglio rassicurare le vittime di usura e di estorsione perché in questi ultimi anni tutte le volte che noi abbiamo prodotto una denuncia e ce ne sono state tante, c'è stata sempre la risposta immediata da parte dello Stato. Ma la cosa più importante è che nel momento in cui una vittima di usura o di estorsione denuncia, lo Stato provvede a risarcire la vittima, il denunciante, dei danni patiti e subiti. Racket delle estorsioni e usura sono due facce della stessa medaglia, cioè sono gestite entrambe dalla criminalità organizzata, dalla mafia foggiana? No, le devo dire che le esperienze che noi abbiamo maturato in questi 26 anni ci danno un quadro molto molto chiaro. La casistica è molto ampia. Indubbiamente ci siamo trovati di fronte a casi in cui l'usura veniva esercitata, veniva svolta da esponenti, da noti esponenti della criminalità organizzata locale appartenenti alle cosiddette famiglie. Altre volte con grande, con grande sorpresa ci siamo trovati di fronte a persone insospettabili. Presidente, questo è un altro passo verso la crescita dell'antimafia sociale a Foggia? Sì, io ritengo che l'antimafia sociale a Foggia esiste. Esiste ma deve farsi sentire ancora con maggiore forza e autorevolezza. La lotta al crimine, la lotta alla mafia non può essere demandata esclusivamente allo Stato, ma non perché lo Stato non sia in grado di fronteggiare una situazione del genere, ma perché il fenomeno è talmente ampio che deve essere portato avanti attraverso una rivoluzione culturale, una rivoluzione culturale che deve coinvolgere essenzialmente i giovani, coloro i quali, come diceva Borsellino, sono i più propensi a respirare il profumo della libertà e a respingere il puzzo del compromesso. Il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, ha richiesto un'audizione al direttore generale dell'Asda di Foggia, Vito Piazzolla, in terza commissione sanità. Vuole sapere se c'è realmente l'intenzione di aprire un hub vaccinale per i cittadini extracomunitari di Borgo Mezzanone. Se qualora ci fosse tale intenzione, Splendido chiede che si possa aprire un altro hub per i cittadini residenti nel Borgo, costretti a percorrere 50 km per raggiungere Manfredonia e sottoporsi a vaccinazione. Cambiamo argomento, il comparto ittico in Puglia è in affanno. A lanciare l'allarme è stata Coldiretti, che ha valutato una perdita pari a 18 mila posti di lavoro. Le cause della crisi lo abbiamo chiesto a Ezio Greco, referente della provincia di Foggia, per Coldiretti in presa pesca. Crollo della domanda. Azzeramento degli ordini, impennata del consumo dei surgelati, non è però tutta colpa del Covid e delle chiusure, giusto? Assolutamente no. Sicuramente bisogna attribuire una grande responsabilità alle chiusure della ristorazione, che soprattutto per il pescato fresco, il prodotto che noi eseguiamo in maniera più attenta, quello locale, ovviamente rappresenta un punto di arrivo alla ristorazione. È un prodotto di nicchia, un prodotto di alta qualità, che finisce spesso nei banchi della ristorazione e le zone rosse e i ristoranti chiusi non hanno aiutato il consumo di pesce. Ma c'è da aggiungere che dovremmo utilizzare questa crisi per organizzare una ripartenza, capire quali sono le nuove esigenze, i nuovi servizi. A partire dal bordo del pescareccio, insomma, la barca dovrebbe iniziare ad attrezzarsi ancora meglio per poter favorire una migliore commercializzazione del proprio prodotto. In alcune aree d'Italia, questo sta già avvenendo, le barche si stanno adottando di macchine spellatrici, offrono a terra un prodotto già pulito, pronto al consumo e ovviamente questo ha favorito tantissimo sia i consumi che il prezzo di vendita. Quindi, migliore organizzazione del servizio affinché il prodotto locale possa essere tutti i giorni della settimana presenti sul banco frigo. Questo attualmente non accade. E poi una richiesta di un maggior rispetto delle regole. Cito un esempio, noi abbiamo tanti allevatori di cozze che rispettano una serie di paletti importanti rispetto alla sicurezza, sacrosanti rispetto alla sicurezza sul lavoro, rispetto alla normativa igienico-sanitaria, rispetto a tutti e quelli che possono essere i costi aggiuntivi che si traducono ovviamente in un costo finale del prodotto. E quando si entra poi in competizione senza avere un particolare vantaggio con un prodotto che proviene dal Cile dove molti di questi parametri non sono rispettati, ovviamente il nostro prodotto ne viene fortemente danneggiato. Quindi chiediamo che noi cerchiamo di fare del nostro meglio per promuovere il marchio locale, il prodotto locale, la produzione locale, per spingere il consumatore con buoni risultati sinceramente. Ma vorremmo essere un attimino più protetti e tutelati. Rilancio e valorizzazione delle terme di Santa Cesarea, un centro di grandi potenzialità situato in una località marina del Salento al centro dei lavori della Quarta Commissione regionale. il sindaco Bleve ha illustrato l'idea di affidare la gestione a privati per 80 anni. L'assessore regionale dell'Inoci si è detto disponibile, una volta individuato il privato che ne guiderà la gestione, a supportare gli eventuali investimenti perché rilanciare le terme di Santa Cesarea significa rilanciare un progetto che integri turismo termale con gli altri tipi di turismo. Può essere un'operazione, ha detto, che va nella direzione della destagionalizzazione a vantaggio dell'intero territorio. Due progetti a Brindisi e a Bari per aggiornare e potenziare i sistemi portuali lungo la costa adriatica. I dettagli nel servizio di Sabino Ignozza. L'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale si è aggiudicata un finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili per quasi 27 milioni di euro nell'ambito della politica agricola comune per progetti di digitalizzazione della logistica e di Cold Ironing, processo che permette lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio importo. Il primo progetto è stato promosso con un finanziamento di 4,7 milioni di euro e prevede l'evoluzione della piattaforma Gaia che permetterà lo scambio di informazioni con il sistema logistico regionale, nazionale e globale. In particolare verrà potenziato il sistema per gli operatori portuali Gaia e sviluppato lo sportello unico amministrativo con l'integrazione delle soluzioni Speed e Pago.pia. Si effettuerà anche l'estensione della cooperazione applicativa con il sistema doganale AIDA a tutti i porti del sistema, attraverso la realizzazione di varchi intelligenti per il tracciamento della merce, il potenziamento del sistema di videosorveglianza a supporto della sicurezza portuale e l'attivazione in tutti i porti di reti wifi a disposizione dei passeggeri in transito e degli operatori portuali. Il secondo progetto, finanziato con un totale di 22 milioni di euro, Green Ports, prevede lavori di realizzazione di sistemi di Cold Ironing nei porti di Bari e Brindisi, con la conseguente diminuzione delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico. È prevista inoltre la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica a parziale copertura del fabbisogno energetico derivante dall'attivazione dei sistemi di Cold Ironing. Nonostante la pandemia non si è fermata la voglia degli italiani e dei pugliesi in particolare di sposarsi. Ne abbiamo parlato con una nota wedding planner pugliese, Beatrice Giaccari. Beatrice Giaccari, wedding planner. In questo periodo, insomma, è davvero difficile fare il suo mestiere? Sì, da quando è entrato a far parte della nostra vita questo coronavirus, diciamo che il nostro lavoro si è adattato a quelle che sono le circostanze. Quindi abbiamo eliminato quelli che sono gli incontri diretti con gli sposi, però diciamo che siamo stati abbastanza tenaci da continuare i progetti con ottimismo. Anche se l'anno scorso è stato un periodo abbastanza buio, i progetti sono andati avanti e quindi con le colle e quant'altro. Leggevo che comunque ci sono ancora molti progetti di matrimonio da parte dei pugliesi, quanto meno, e non solo. È così? Sì, sì, assolutamente. Perché, insomma, l'ottimismo fa parte del nostro animo pugliese, anche degli sposi che non sono pugliesi. Perché comunque la stagione deve ripartire. e con limitazioni, con tutte le dovute, con tutti i dovuti protocolli, ma dovrà ripartire per forza. Si spera. Certo, ce l'auguriamo tutti. Come vi state preparando allora? Ancora non abbiamo una, diciamo, i progetti vanno avanti. Quella è l'unica cosa certa per quanto riguarda il mio settore. Quindi comunque con le spose stiamo progettando quello che è il giorno, il loro giorno tanto atteso. Quella è una grande certezza. Approvati ieri in una seduta straordinaria della Giunta regionale, due provvedimenti. Il primo riguarda l'approvazione di un protocollo d'intesa fra Regione, Comuni di Bari e Ferrovie per il potenziamento infrastrutturale del nodo ferroviario di Bari e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie. Il secondo provvedimento riguarda l'allargamento della rete di laboratori per eseguire i tamponi. Ebbene, è tutto per questa edizione del tuo Tg Puglia. Vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che subito dopo la pubblicità andrà in onda 5 minuti con Aurelio Portincasa, direttore della struttura complessa di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica degli ospedali riuniti di Foggia.